In questi giorni si parla molto del processo alla Commissione Grandi Rischi, accusata di aver dato nella tristemente famosa riunione del 31 marzo 2009 una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace. Su tante cose si può discutere, parlare, accalorarsi e avere opinioni diverse, ma il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, su una questione che rischia di coinvolgere la sua coscienza etica e di trascinarlo in un gorgo di accuse di giudizi morali, non accetta confronti. La sua testimonianza nel processo contro la Commissione Grandi Rischi, a suo dire, è stata resa in perfetta coscienza, senza la volontà di scagionare o accusare nessuno, ma di raccontare i fatti. E i fatti furono che lui, dopo quella riunione, non si sentì rassicurato e si attivò per fronteggiare una situazione di possibile emergenza, lo racconta lui stesso nella nuova puntata di Aquilani. Io ho risposto sotto giuramento a delle domande molto precise del Pubblico Ministero domande un po' strane di una delle parti civili e comunque alle quali ho risposto che colore è il cavallo bianco di Garibaldi? È bianco, non puoi rispondere a quattro zampe. E poi le domande molto precise, direi quasi incalzante, del giudicante, del giudice. Ho detto la verità rispetto alle domande che mi sono state rivolte. Le domande mi sono state rivolte sono state Lei partecipò alla Grandi Dischi? Sì, arrivando in ritardo perché fui avvertito all'ultimo minuto. La pezzo panna non fu avvertita per niente. Lei è uscita e rassicurata quella riunione? Assolutamente no. Questo mi si è chiesto. Poi mi si è chiesto se c'era un piano di protezione civile, ho detto di sì e così via. Lei di quella riunione ricorda qualcosa? Sì, ho raccontato gli interventi che mi sono rimasti nella memoria da parte del giudice. Che fu un intervento di Calvi che disse che è un terremoto strano. Quindi figuriamoci se io ne posso essere uscito e assicurato. È come se io a un paziente dovesse dire che è una semplice donzillite, ma è molto strana. Lei sarebbe tranquillizzato? Credo di no. Il sindaco della città dell'Aquila, che non si affida né a Stregoni né a Indovini, né tantomeno dà ascolto a una commissione di grandi rischi e non dà risposte, non solo non tranquillizzò, ma io autonomamente assunzi tutta una serie di iniziative, solo io, che io vorrei ricordare rapidamente. La mattina dopo è la grande rischio. Dopo il giorno prima avevo chiuso per due giorni tutte le scuole, lo sa bene il direttore dell'Accademia, e fatto fare la verifica in 48 ore di tutti gli stabili comunali. Aver deciso di rendere inagibili per tutto l'anno scolastico due edifici, scontrandomi con le maestre e i genitori della Dio Amici. La mattina, il primo, giorno dopo, io chiesi lo stato di emergenza.